Pace bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Questa terza domenica del tempo d'avvento è la domenica della gioia. Abbiamo dunque l'occasione di chiederci come si fa a vivere nella gioia. Anzitutto quando parliamo di gioia di che cosa parliamo? Non dell'euforia del momento e nemmeno della semplice allegria più legata alla sfera emotiva. La gioia non è neanche il piacere che ha a che fare con il soddisfacimento di un bisogno e non è nemmeno la felicità che è già qualcosa di profondo che ha a che fare con la relazione con l'altro e il dono di sé. La gioia è qualcosa di tipicamente cristiano, di umano e divino insieme. Gioia in greco è kara che ha la stessa radice di karis, grazia. La gioia è un frutto dello Spirito Santo, cioè è frutto di una vita vissuta in comunione con Dio e dono di Dio e al contempo frutto di un cammino. Potremmo paragonarla ad una fonte d'acqua sotterranea. La si raggiunge solo se si hanno profonde radici interiori. Dal Vangelo di questa domenica, centrato sull'annuncio di Giovanni il Battista, possiamo cogliere almeno due dimensioni fondamentali per vivere nella gioia e disporre il cuore alla venuta di Cristo. Uno, scegliere il bene. Due, vivere in comunione con Dio. Vediamo un po'. Giovanni Battista invita a prepararsi alla venuta del Messia e colui al prossimo giudizio di Dio, perciò invita a fare opere degne di conversione. Allora le persone vanno da lui e gli chiedono che cosa dobbiamo fare? Che cosa devo fare per preparare il cuore? Cosa devo fare per vivere un po' più nella gioia, potremmo dire? Ora, Giovanni, lo ricordiamo, è l'ultimo profeta dell'Antico Testamento e nella sua risposta parte da un livello pratico, concreto, umano. Alle folle dice, chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Parti dal condividere, dal fare giustizia. Inizia a scoprire che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ciò che hai serve a te per vivere bene e per far vivere bene gli altri. Ed è lì che nasce e rinasce la gioia. Madre Teresa raccontava un'esperienza molto bella. Una volta portò del riso ad una famiglia indiana di religione induista. Una mamma molto povera, con diversi bambini piccoli, sporchi e affamati. La donna, colma di gratitudine, strinse per diverso tempo le mani di madre Teresa. Poi ad un certo punto iniziò a dividere il riso, ne prese una parte e uscì subito di casa. Madre Teresa in curiosità la seguì e vide che questa donna si recò da una vicina di casa, musulmana, a darle parte del suo riso. Madre Teresa si commosse. Anche quella madre era povera, con diversi figli da sfamare, e quella donna indiana scelse di condividere quel po' di riso che la provvidenza per quel giorno le aveva donato. Dunque, un primo passo nel cammino di conversione e verso la gioia è la condivisione. Poi ecco i pubblicani, gli esattori delle tasse ebrei che lavoravano per conto dei romani e che spesso facevano la cresta alle tasse, arricchendosi disonestamente. E noi che dobbiamo fare? chiedono a Giovanni Battista. E Giovanni risponde loro, non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Non esigere di più. Metti un limite, tempera i tuoi appetiti. Non tutto ciò che mi passa per la testa, che sento o che desidero, è buono. Devo imparare a mettermi un limite, temperare la mia umanità. Una buona macchina, oltre a un buon motore, ha bisogno anche di buoni freni. E ancora, abbiamo i soldati e noi cosa dobbiamo fare? E Giovanni rispose loro, non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Accontentatevi delle vostre paghe. Non trattare male. Non usare male la forza. Potremmo dire esercita una sana fortezza. Usa il potere che hai per amare. Usa la forza che hai per servire. E accontentati. Sii contento di ciò che hai, coltivando quella virtù meravigliosa che è la gratitudine. Che bello! Iniziare e concludere le nostre giornate pregando e iniziare la preghiera ringraziando. Tutto è grazia, ricorda San Paolo. Le ultime parole di Santa Chiara prima di morire furono, Signore ti ringrazio per avermi creata. Dunque Giovanni indica la concretezza della conversione e parte dal farci riscoprire in fondo che cosa? Il valore del bene. Di una vita giusta, sana, retta. E invita di conseguenza a moderarsi, a voltare le spalle al male. Ecco una prima bella notizia. Siamo fatti per il bene. Siamo chiamati a compierlo e siamo resi capaci di attuarlo. Il male incuriosisce, fa più rumore, ma è banale. Il bene attira, ravviva, si diffonde. Amore chiama amore. Potremmo dire siamo programmati per amare e solo quando amiamo nella verità siamo realmente felici. Ma c'è di più. Giovanni annuncia io vi battezzo con acqua, ma dopo di me viene colui che è più forte di me. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Cioè viene colui che è capace di immergerti nello Spirito di Dio, di renderti partecipe della sua vita. Dio vuole infondere in te il suo amore, la sua cura, la sua tenerezza, la sua dolce presenza, perché nella tua fragile umanità possa pulsare e brillare lo splendore della sua divinità. Ecco l'altra bella notizia. Tu puoi accogliere Dio in te e vivere unito a Lui. Lui in te, tu in Lui. Come ha detto Jean Galot, l'uomo è fatto per entrare in comunione con Dio e solo in questa comunione può trovare la sua felicità più profonda. E ancora ci dice, tiene in mano la pala per pulire la sua aia e raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. Uno potrebbe dire, però, quanta allegria! Chiaramente Giovanni era un uomo dell'Antico Testamento e annuncia la venuta del Messia secondo le sue categorie, ma dietro la scorza dura c'è un tesoro bellissimo. Usa l'immagine dello scuotere il grano con la pala, come era l'antica maniera per pulire il grano con il ventilabro, una sorta di forcone che serviva per tirare all'aria il grano raccolto in modo che ricadendo la pula si staccasse dai chicchi. Ecco, viene uno per mezzo del quale e grazie alla parola del quale il tuo cuore viene purificato dal male. Anni fa trovarono i bronzi di riace, delle bellissime sculture sott'acqua che apparivano come un ammasso di alghe. Tiratele fuori, gli archeologi iniziarono a pulirle finché non emerse quello splendore che vediamo oggi. Vedete, miei cari, il lavoro di questi archeologi è un po' il lavoro che Dio vuole operare in noi. In noi c'è seminata tanta bellezza, l'immagine e la somiglianza di Dio, ma sopra questa bellezza ecco tanta paglia, tanti attaccamenti disordinati, atteggiamenti egoistici, maschere e strutture formatesi negli anni, ferite irrisolte. Cristo è colui che viene a tirar fuori quella bellezza seminata in ciascuno di noi. Si racconta che una volta un pittore di strada ebbe un cliente particolare, un povero barbone ubriaco. Il ritrattista iniziò a disegnare il volto del suo cliente. Finito il disegno, lo ruotò e glielo fece vedere. Il barbone, stupito, vide l'immagine di un uomo distinto, pulito, sorridente. Guardando l'artista gli disse «Ma questo non sono io!». L'autore gli rispose «È vero, ma è ciò che potresti diventare». Ecco, la parola di Dio, fattasi carne in Gesù, viene a rivelarci chi siamo davvero, quanto valiamo ai Suoi occhi e di quanta bellezza siamo resi capaci se viviamo bene e uniti a Lui. Qui non si tratta di sapere delle cose, né basta credere all'esistenza di Dio o nel fatto che Gesù sia il figlio di Dio. C'è da farne esperienza, aprendogli il cuore, prestandogli fede e seguendolo nella Chiesa. Inizia a pregare sul serio, a meditare ogni giorno il Vangelo. Inizia a vivere un'intensa vita sacramentale, a farti accompagnare spiritualmente, lavorando su te stesso. Vedrai, nel tempo, quanta bellezza anche da te, Dio tirerà fuori. Lasciamo che in questa domenica lo Spirito Santo dilati gli spazi del nostro cuore. Siamo creati per amare, siamo capaci del bene, ridecidiamoci ad attuare il bene possibile qui ed ora e riscopriamo la grazia, la bellezza di una vita vissuta in comunione con Dio. L'unico, come diceva il Santo Curato d'Ars, che è veramente felice e rende felici, unica fonte della vera gioia. Che il Buon Dio vi benedica, pace e bene a tutti!